Volevo chiedere un'informazione al segretario, visto che ci troviamo in una fase molto delicata. In questo atto di insisto che è stato necessario dal Partito Democratico, e visto che nella provocazione del Consiglio Comunale di Sordine del Sordo è un tanto di discussione in un'opera di effigenti, volevo sapere se è un fatto normale, legale, che il Partito Democratico ha fatto di essere. Grazie. La parola è la proposta di tre comunali. Prego, un attimo solo, non capisco questa città. La parola al segretario comunale che risponde alla domanda e diciamo a continuare a sui tu. Lei già l'ha fatto, bene a tavolo, ve lo prendete, non mi trovo a che cosa. Prego. Io, per me, grazie, grazie, per questo che ci sono. Potrebbe anche, nel senso delle norme regolamentari, potrebbe, con il voto umano, ci consigliere, se sono d'accordo sui consigli, non ti vedeci, se sono d'accordo, ci vedeci, e si fa la domanda. Ma se non ci sono tutti i consigli, non si chiede, si dice che si fa una domanda di deciso, ma soprattutto potrebbe essere comuniato da chi di questo non ci sono. non ci sono tutti i consigli, ma sono per cui io ringrazio tutti i consigli, perché avrei fatto io la domanda, a ritrovare le grosse difficoltà, a ridurre l'altro, perché l'altro indirizzo, io la mattina sapevo parlare, cioè, l'indirizzo e l'indirizzo, gli organi collegiati fanno le delizze, che poi si chiamano anti-indirizzo, si chiamano anti-abrogativi di progetti, si chiamano come li vogliamo chiamare, ma gli organi collegiati agiscono attraverso atti deliberati. Su questo non ci sono le due, perché se si chiamano le delizze, non si doveva parlare di delizzo, ma si doveva parlare di delizzo, non so chi l'ha detto, come si chiama. Strono sfondo, lui, perché quando delizzo è il consiglio, quando è chiamato a pronunciarsi il consiglio, da giù, fa atti deliberativi che hanno tutte le caratteristiche, sia l'indirizzo o l'una dell'altra delizzo, dal programma di consiglio, fa atti di indirizzo o di desideri, quindi in linea di massa, gli atti che il consiglio non ha, sono atti programmatici di dirizzo, perché la gestione che si chiamano tutti, che si dice lo stesso da giunta, la giunta è qua a parlare di storia.